ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono nivex07 allora io in questi giorni non ho potuto fare video quindi ero molto impegnato scusate poi vi volevo far vedere alcune cose a parte che nelle notizie questa cosa brawl talk guarda vabbè c'è il primo nuovo nuovo brawler stanno mettendo tanta gente questi ultimi giorni poi manca poco per lui boh ci arriverò poi un po di sfortuna qua 99 su 100 e ieri sera questo in una cassa piccola si quindi ora io farei una raffa che queste due già fatte pezzo grosso per sbaglio l'ho fatto prima di iniziare il video però lo faccio lo stesso di nuovo e vado ecco fatto no c'è 8 bit no 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 8 bit no 8 bit no 8 bit no io odio qualsiasi 8 bit ci sia nel mondo di brawl stars maledetti loro maledetti 8 bit e chi l'ha fatto vabbè dai sei morta no 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 si in questi casi oh c'è un bocco qui nell'erba no no nella gi- maledetto le bombette nel mengala il salto del primo io che kill un boc scegli che usa la suprema a casaccio io che lo curo e lui che non torna giù ce l'hai tutte te no scherzavo ce l'ho tutte io scherzo no perché sono rincoglionito in questi casi ce l'avevo quasi tutte io vabbè almeno ho vinto vabbè dai speriamo bene poi per chi mi segue è iscritto magari mi scriva nei commenti se vuole che io faccia di nuovo quella cosa che ripiglio tutte le casse le tengo arrivo tipo a 10 non lo so scrivetemelo nei commenti ora farei footbrawl sono indeciso se fallo con la cara rosa però 575 d'attacco questo insomma sì dai tanto è anche nuova ho già imparato a usarla in un giorno e anche una sera sola no tutti i sank bb gesù bb uguale gesù bb uguale gesù ha detto c'è la fifa c'hai fifa no non ce l'ho fifa non mi garba proprio il calcio scusate per questa rivelazione io gioco a basket io a ridio oh e bagazzi vai vai sì stefe zombie vabbè sono stato il migliore io che non no l'ho spostati tutti però mamma mia ma bb è fortissima footbrawl cioè te li scansa tutti le vase vi passa il signore non lo so facciamo un pezzo grosso con chi è? no allora pezzo grosso lo farei con Onnita oppure bibi che me la scansa via sì Frank oddio sì Frank è fortissimo però l'attaccare sta fermo lo uccido un subito posso curare le asie però non fa niente broccoli ricarica troppo lento non volevo usare un tank oddio davvero mi sa che uso Nita o bibi nita bibi nita dai ce l'ho al 7 grado 15 ma sì dai e dai due è il primo no eh per favore no e no eh no no oh perché il primo che devi ucciderso io te ne arrivavano altri a due direzioni diverse pigli proprio me voilà vai eh buongiorno buonasera prenditi il mio ursaling vai scelgo te la mia battuta di quando dicono già di quando metto ursaling per chi segue il pokemon ah oh gli arrivo accanto va via dall'accia hai paura ursaling riscelgo te giusti è quello santo levati lascia fare ai protagonisti dei video penso che tu non lo stia facendo perché sennò te lo sto rovinando grande bull no oh è la prima o è la seconda volta che muoio la prima no la seconda la seconda eh due volte sole ma non dobbiamo lasciarlo vivere dai dobbiamo spedirlo subito sotto terra neanche va lì la sua vita morto da solo brock mi ha fregato la kill maledetto guarda te il tuo lanciarazzi colpisci da lontano maledetto no dai no dai me le lascio le casse dai chi è moala da non lo conosco vabbè dai allora abbiamo fatto raffo pezzo grosso pezzo grosso poi che faccio rapina sopravvivenza dai rapina poi sopravvivenza allora rapina uno che colpisce da lontano possibilmente ma si dai jesse e se sentite di sottofondo uno scampanio tipo don don sto davanti a un campanile quindi scusate ce la farà prima o poi a smettere Gesù Gesù aiutami tu altro che scubidù vai oh le abbiamo già sciottata le abbiamo già sciottata e si sciotta mamma mia 100 a 0 cioè va bene sì questa partita è stata mitica donna il campanile io spero voi non lo sentiate perché se no veramente mi viene da concludere il video però faccio quest'altra oppure parlo un po' più alta uosce dai allora facciamo sopravvivenza proviamo baby dai la baby cara bibosa che poi baby è il soprannome del mio cane che si chiama bilbo quindi mi garba appena l'ho vista che è uscita mi è garbata è uno tra i miei preferiti vai baby ho finito eh campanile si mi hanno graziato anche se non vado mai in chiesa va bene era meglio se non lo dicevo no no meno cosa meno male l'ho messo uno scarso vabbè dai stavolta si vince tanti bei pollici in su eh in tutti i video tanti 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 oh ma mi ha fatto danno alla cassa no ma non c'ho da picchiare eh troppo no penny vai al penny wise vai al penny wise non venire a rompere a me non rompermi alle palle eh cristo no rompere a me che cacchio broccolo stai fermo ti darò sto soprannome per sempre no ma baby non c'ha la possibilità tipo broccoli lancia un razzo e con quella cosa caricata lo rispedisce indietro sarebbe una cosa oh l'ho preso davvero lo sapevo che eri il maledetto broccolo broccolo vieni qua vieni qua non venire più allora non devo più pushare la gente zero o finchè non la vinco io vado avanti eh questa è l'ultima allora dai se no troppo tempo o comunque ha riniziato il campanile come se non bastasse supercell ma cosa no ma fan cuffia va bene fan cuffia ti pusho non lo faccio più scherzo non lo faccio più non lo faccio più che ti pigli a tua amicizia amicizia ho detto ho picchiato anche dall'altra parte scretino e la madonna te li do a tutti a te eh eh Carl non ti ci metto anche se eh anche se prima o poi ti trovo troverò tutti dai mio santo ce n'ho una io odio quando un'altra bibi bibi bitch 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 pensaci te oh oh madonna no perché c'hanno tutti le supreme nel momento sbagliato vabbè più sei dai ragazzi mi dispiace non ho fatto la vittoria e io concludo qui il campanile sicuramente smette quando smetto il video ve lo farò sapere nel prossimo video se me lo ricordo se no scrivetemelo nei commenti e ci si vede un'altra volta